Il linguaggio di Gaia. Come abbiamo imparato Gaia, il nostro pianeta, non è un sasso inerte pieno di lava fusa ma un organismo vivente estremamente complesso ed intelligente, con sensori di ogni genere su ogni centimetro quadro della superficie, con una memoria, che comprende tutte le nostre, nonché di tutte le incarnazioni, che abbiamo attraversato, ed una capacità di calcolo in grado di trovare l'opzione migliore su miliardi, per compiere i processi, che al momento è necessario che compia. Pertanto dato che i terremoti sono le dinamiche, che il pianeta usa per sciogliere le tensioni, che ne disturbano il funzionamento, l'opzione che permetta di scaricare la tensione accumulata lungo le faglie compromettendo il meno possibile i suoi ospiti, ossia noi, da come risultante i movimenti tellurici che registriamo. Stamane presto si è verificata una scossa insolita in una regione non tipicamente sismica e non geologicamente critica, poiché alluvionale. Per fare un raffronto, con la stessa magnitudo nel 1980 in Irpinia bifurono 2500 morti e la distruzione di interi paesi. Inoltre sono anni, che si attende un bigone devastante nell'Italia centrale, che invece Gaia riesce ad evitare. La serie è accaduta in Nord Italia a partire da ieri sera, che ha avuto un picco attorno ai 6.0 Richter alle 4.4, a un corrispondente terremoto gemello contemporaneo in Giappone, identico anche per profondità, come vediamo nel video sottostante. Questo è il modo in cui il nostro pianeta ci parla. Conosce tutto di noi, ed ha una esperienza di vita infinitamente maggiore. Se pensiamo che ciò che fa sia casuale siamo affezionati ai nostri paraocchi di razionalità. Impariamo a darle ascolto, è certamente più saggia di noi. Fonte Ierba